Raffaello Sanzio è un melograno! Mi direte, ma cosa dici? Cosa vuol dire Raffaello è un melograno? Che affermazione quanto meno bizzarra! Mi direte, cosa c'entra un pittore col melograno? Ora vi spiego, non sono ammattito, vi spiego cosa intendo. Perché Raffaello è un melograno? Dobbiamo però partire dall'inizio. Qual è la figura che abbiamo più o meno, l'immagine che abbiamo di questo straordinario pittore? Questa. Secondo me è questa. È l'autoritratto conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze, in cui vediamo, certo, un dipinto bellissimo, però l'uomo che ne viene fuori non è particolarmente sprizzante di energia e di vitalità. Anzi, a me mi pare una persona mite, modesta, direi lineare, non tanto affascinante, addirittura non vorrei essere blasfemo, ma direi noiosa, priva di ironia. E in fondo, in fondo, mentre preparavo lo spettacolo su Raffaello, molti mi hanno detto, sì, Raffaello, per carità, pittore, cioè, meraviglioso, però un po'. Ecco, voi capite dalla mia mimica cosa intendevano queste persone, ecco, di fronte a questa immagine di Raffaello io mi ribello, mi ribello e voglio proporvi un'altra figura di questo straordinario pittore. Innanzitutto un Raffaello ironico, uno, ironia. Ebbene, partiamo dalla scuola di Atene. È un urlo d'amore per la conoscenza, ci sono tutti i filosofi antichi, Platone, Aristotele, Socrate, Diogene, Epicuro, eccetera, eccetera. Solo che Raffaello ne dipinge alcuni con il volto di uomini contemporanei. Il matematico Euclide ha il volto di Donato Bramante, anche la sua testa pelata. Platone ha il volto barbuto di Leonardo da Vinci. E poi c'è un filosofo, lo vedete qui davanti, chiuso in se stesso, misantropo, appoggiato col gomito. E chi è quello? Chi è? Innanzitutto, quel filosofo nel cartone preparatorio non c'era. No, Raffaello l'ha tratteggiato proprio, direttamente, sull'affresco. Chi è? Eraclito. Raffaello, il filosofo più misantropo dell'antichità, e ha il volto di un uomo che aveva proprio quella fama. Michelangelo, buonarroti. Eccolo lì, dipinto così cruciato, chiuso in se stesso. In più aggiungiamo che Raffaello lo dipinge con i vestiti della sua epoca del Rinascimento. Cioè, oggi noi non lo notiamo quasi, perché ci sembrano tutti vestiti antichi, abiti antichi. In realtà emergeva in maniera, come dire, preminente questa figura in quel dipinto. È come se oggi vedessimo un dipinto con tutti i filosofi vestiti, con le tuniche antiche, e in mezzo uno con la tuta, o con la felpa. Probabilmente, vedendo un Michelangelo così chiuso, addirittura Raffaello lo dipinge con gli stivali. Si diceva che Michelangelo tenesse sempre gli stivali addosso, non se li togliesse mai. Michelangelo sta sempre con gli stivali. E lo dipinge lì in primo piano, con quegli stivaloni. Il Papa, sicuramente, avendolo visto, avrà fatto una sonora risata, io me lo immagino. Giulio II che arriva lì, ah, mi sono domini laudici in Cristo, ma quello è Michelangelo, questi stivali, ah, mi sono domini laudici in Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Due, gioia di vivere. Raffaello amava la vita, l'amava. Basta vedere come dipinge la Villa Chigi, Agostino Chigi, un grande banchiere, il banchiere del Papa, ma anche un uomo che amava la vita. Chiama Raffaello nella sua Villa sul Tevere e dice, dipingela, dipingela, fai qualcosa, un inno alla gioia di vivere. Raffaello dipinge, proprio delle volte, io le chiamerei le volte della follia, della felicità. Guardate lì, de enninfe seminude, vino che trabocca dalle pareti, frutte e verdure che sembrano altro. Ecco, d'altronde l'interesse erotico, diciamo così, di Raffaello l'aveva dimostrato fin da ragazzino, in questo cartone preparatorio, in una delle sue primissime opere, vediamo che l'angelo ha, diciamo così, un'erezione in corso, una piccola erezione in corso, ma pur sempre un'erezione. L'amore di Raffaello, appassionato, era per la fornarina, una donna del popolo, eppure Raffaello era promesso sposo della nipote del potente cardinal Bibbiena, amico di Raffaello, ma il Bibbiena era potentissimo, gli aveva detto Raffaello, Raffaello tu sposi mia nipote, va bene? Raffaello non poteva dire di no, era anche un avanzamento sociale, in un certo senso, così ritardava il matrimonio, perché lui amava la fornarina, e quindi diceva a Bibbiena, Bibbiena io, sì, adesso mi sposo un attimo, devo finire, ho una cosa da fare, passava il tempo, un anno, Raffaello è passato un anno, parlava così il Bibbiena, Raffaello è passato un anno, sì, arrivo, ho ancora due cose di là, Raffaello sono passati due anni, mi dai cinque minuti? due minuti, un minuto, arrivo che lo ritardò così tanto che non si sposò mai, perché amava, amava la fornarina. Tre, l'audacia, Raffaello era un uomo audacia, ad un certo punto Papa Leone X incarica Raffaello della catalogazione di tutti i reperti antichi della Roma imperiale, solo che Raffaello si accorge così, andando in giro per Roma, che i reperti antichi non erano conservati, tutelati, tutt'altro, erano vandalizzati, lasciati proprio così, decadere, addirittura alcuni di questi erano utilizzati come cave, per esempio il Colosseo, dal Colosseo si prendevano i marmi per fare gli edifici nuovi, tutto questo per Raffaello è un colpo al cuore, e così lo denuncia, scrive una lettera direttamente al Papa, insieme al suo amico e grande intellettuale Baldassarre Castiglione, una lettera veramente di fuoco in cui accusa addirittura i papi precedenti, dice più o meno così Raffaello. Guardo alla Roma odierna come un cadavere di una nobile patria. Quanti pontefici, Padre Santissimo, dico pontefici, costruttori di ponti, hanno permesso la distruzione di statue, archi, templi antichi ed altri edifici gloriosi. E allora cercate almeno voi, vostra santità, di lasciare vivo il paragone con gli antichi, di eguagliarli, superarli e risvegliare gli ingegni. Deve essere nostra cura tutelare assiduamente quel poco che ci resta della gloria dell'antichità. Un precursore. Se pensiamo che queste parole sono molto simili all'articolo 9 della nostra Costituzione, che dice la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Insomma potremmo parlare veramente per ore delle sfaccettature di un Raffaello tutt'altro che mite, tutt'altro che modesto. Io vi consiglio un libro di un grande storico dell'arte che sa veramente molto ma molto più di me, che ha scritto un libro stupendo, Antonio Forcellino, Raffaello è una vita felice. Comprate, bellissimo, bellissimo. Leggetelo. Quello che mi interessava dire è che l'immagine stereotipata di Raffaello rappresentata bene da appunto l'autoritratto che abbiamo visto all'inizio è un'immagine falsa o quantomeno incompleta. Dobbiamo aggiungere altre immagini, altri autoritratti. Questo di Raffaello sempre, lo vedete, e qui Raffaello è molto più maturo e determinato. E poi questo, questo è un dipinto purtroppo che è andato perduto durante la seconda guerra mondiale. Raffaello si ritrae, si autoritrae. È molto diverso da quello che avevamo visto all'inizio. È un Raffaello furbetto, direi, un Raffaello ironico, insolente, altro che mite, modesto e noioso, tutt'altro. Insomma, Raffaello è chiuso dentro un'immagine che non mostra quello che è veramente. L'immagine è un'immagine che mostra l'esterno. Ecco perché io dico che Raffaello è un melograno. Eh sì, Raffaello è un melograno perché il melograno da fuori appare un frutto più o meno normale. Se noi lo vediamo fuori, ne guardiamo solo la buccia, per scoprire questa esplosione di colori che contiene e la varietà multiforme dei suoi chicchi, noi il melograno non lo dobbiamo solo guardare da fuori, lo dobbiamo aprire, dobbiamo entrare quindi in profondità. Solo se apriamo il melograno scopriamo quanto il melograno è diverso da quello che ci appare fuori. Ecco perché Raffaello è un melograno. E allora mi chiedo quanti melograni esistono che non abbiamo mai aperto, di quante persone, di quanti luoghi, di quanti argomenti. Abbiamo un'immagine stereotipata, ne vediamo solo la buccia ignorando l'esplosione di colori interna. E allora io concluderei così. Apriamo i melograni. Grazie.